Dalla Toscana all'Abruzzo, da Grosseto ad Ari, da Piero Braia a Vincenzo Vivarini, l'Avellino ha scelto il 55enne allenatore ex Entella per rialzare la testa dopo un avvio di stagione tutt'altro che positivo. In seguito ad una carriera sfortunata da calciatore che l'ha portata al ritiro a 33 anni e dopo aver mollato a 30 anni il professionismo, a causa di due crociati rotti, ha intrapreso l'avventura in panchina, iniziando da collaboratori di Simonelli e Sarri a Pescara. L'attuale tecnico della Lazio lo avrebbe voluto con sé anche ad Arezzo, ma Vivarini optò per continuare la sua esperienza con il Delfino, sempre da collaboratore, prendendo in seguito, insieme a De Rosa, il posto dell'ex Bianco Verde a Mazzalorso, partenza al sprint, con 10 punti in 4 gare, ma al termine della stagione i Biancazzurri retrocedono in C e falliscono. A 41 anni inizia l'avventura da solista, Luca Canistro, Renato Curi e Angolana in Serie D. Tra il 2009 e il 2011 all'Enel Chieti, portandolo in seconda divisione il primo anno e conquistando un sesto posto nella stagione successiva, poi l'Aprilia e l'Ilteramo, con cui ottiene una storica promozione in cadetteria, poi revocata. Latina, Empoli, Ascoli, Bari e Dentella, le altre esperienze in panchina. Nell'estate del 2017, quando sedeva sullo scranno dell'Empoli, la chiamata di Murigno, lo Special One, si complimentò con Vivarini grazie all'amico in comune Andrea Butti, direttore generale dell'Empoli, e che con il portoghese aveva vinto lo storico tripleto all'Inter. Nel giugno del 2018 Maurizio Sarri lo contattò per portarlo in Inghilterra come secondo, ma Vivarini declinò l'invito. Una persona chiara, pulita e capace, e furono queste le parole di Sarri in un'intervista nei confronti del tecnico abruzzese. L'Aleatore della Lazio era rimasto favorevolmente colpito da quel giovane collaboratore. 465 partite in carriera, 181 vittorie, 152 pareggi e 132 sconfitte, per una percentuale di successi 38,9. Alla guida del Bari una cavalcata straordinaria, con 15 vittorie e 12 pareggi tra campionate e play-off, con la promozione in B, sfuggita nella finale contro la Reggiana. Il 4-3-1-2 è il sistema di gioco di riferimento dell'allenatore abruzzese. Vivarini in carriera ha lanciato l'italo-peruviano La Padula, ed ha allenato tra gli altri anche il nazionale azzurro Di Lorenzo, Benassere e Clunic attualmente al Milan. toccherà a lui dare nuova linfa all'avellino.